La persona perfetta. Bea è con il suo amico Eddie in un bar. Ciao, Bea. Come stai? Ciao, Eddie. Bene. E tu? Sono un po' malato. Oh, mi dispiace. Sono molto stanco. E ho freddo. Eddie, devi andare a casa e dormi. O vuoi andare dal dottore? Non ti preoccupare. Stasera ho un appuntamento con una ragazza. Tu vuoi andare a un appuntamento? No, no. Io conosco la persona perfetta per te. Ah, sì? Sì, lei è alta, intelligente. E divertente? Sì, molto divertente. Ah, è davvero perfetta. Come si chiama? Dottoressa Rossi. E devi andare al suo studio subito, perché sei malato. Perfetto amico. Intelligente. Dormire. Malato. Dottore. Dottore. Grazie a tutti